Sabato sera al Palazzetto dello Sport di Cento, prima edizione della Cento Box Night, manifestazione che ha visto sfidarsi sul ring alcuni grandi pugili del panorama italiano e internazionale organizzata dalla ASD Serio Boxing Team. Di fronte a un migliaio di persone a corse si sono svolti quattro incontri dilettantistici e altrettanti professionistici. Tra i professionisti l'attenzione era rivolta maggiormente agli incontri di Alessandro Caccia al rientro dopo una pausa di più di due anni e Leonardo Damian Bruzzese, due volte campione italiano. Nel primo incontro professionistico della serata Nicolas Esposito, promessa italiana ancora imbattuto nei pesi Welter, ha superato agilmente Marco Nastasic per KO tecnico. Nel secondo incontro, sempre pesi Welter, l'attesissimo Alessandro Caccia sfidava Nerdin Fejzovic. Il conte si è aggiudicato il match ai punti dopo sei riprese, nelle quali Caccia ha dominato costantemente. Al termine del secondo incontro, il vice sindaco di Cento, Simone Maccaferri, è salito sul ring e ha ringraziato l'organizzazione per il lavoro svolto e il numeroso pubblico per la partecipazione alla serata.